Sei stanco di avere ottime idee e di non riuscire a realizzarle come vorresti? In questa presentazione puoi vedere alcuni dei progetti che verranno realizzati nel videocorso Photoshop Tecniche di fotomontaggio pubblicitario. Andrea Spinazzola ti guiderà passo a passo nella creazione di fotomontaggi estremamente creativi e del sicuro impatto, insegnandoti tecniche avanzate che ti permetteranno di ottenere risultati realistici ed estremamente professionali.